buongiorno a tutti allora abbiamo la super mega pizza galattica mega gustosa patatine melanzane zucchine booster gamberetti quattro formaggi di base e mi sembra di aver detto tuta anche i funghi porcini sopra che fanno ancora più libidine naturalmente freschi non scaldati nel forno e poi e poi anche la salsiccia giusto e il carciofo il carciofotto perché ce n'erano troppi non me li ricordavo tutti ci ha pensato il pizzaiola ricordarveli poi siccome come al solito il cuoco esagera fatto gli spaghettoni alla grande però era avanzato un pochettino c'è anche gli spaghettoni da mangiare sempre coi funghi di gran libidine ragazzoli io adesso proverò a mangiare tutto credo di farcela e naturalmente ci vediamo alla prossima vi faccio vedere dall'alto la pizza così almeno mi viene fame ciao